I cubani non ruberanno alcun posto di lavoro ai nostri medici. Quando ci saranno o decideranno di partecipare ai concorsi che continuiamo a bandire, saremo felici di assumerli. Il paradosso è questo, che la sanità calabrese può assumere, ma diciamo che ha difficoltà di reclutamento. Così Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria, in un'intervista alla Repubblica. È chiaro che questa non può essere una soluzione strutturale, ma una soluzione ponte per evitare un tracollo di alcune strutture ospedaliere. La sanità calabrese è stata distrutta da 12 anni di commissariamento, in cui non solo non sono mai stati aumentati i livelli di prestazione, ma non sono mai neanche stati fatti i conti sull'ammontare del debito. Noi abbiamo bisogno di 2.500 medici, 500 dei quali subito se non vogliamo chiudere pronto soccorso e reparti. In Italia niente medici disponibili? No. Qui abbiamo fatto e stiamo facendo concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, ma non troviamo gli specialisti che servono. Evidentemente il sistema sanitario calabrese è poco attrattivo e il turnover non è stato garantito dal numero chiuso all'università. In più, molti medici ospedalieri si dimettono, e sa perché? Per una struttura del sistema. Si dimettono perché trovano più conveniente andare a lavorare nelle cooperative che forniscono medici a gettone. Qui in Calabria un medico a gettone prende 150 euro all'ora. Un medico così può arrivare a costare fino a 50.000 euro al mese e non ce lo possiamo permettere. Il ricorso ai cubani non è stato visto di buon occhio all'ordine dei medici, però noi abbiamo utilizzato un barco normativo, quello dell'emergenza Covid, che non prevede l'iscrizione all'ordine dei medici. Ma al di là di questo, io ho avuto l'impressione di aver toccato qualche interesse. Se andiamo a guardare i fatturati che stanno sviluppando queste cooperative a gettone, forse capiremo perché. Preferisco pensare che questo nostro modello potrebbe essere adottato da altre regioni in difficoltà, come noi, sottolinea il governatore Roberto Chiuto.